Ecco qua, allora abbiamo in diretta, questa in realtà non è una doccia portatile, ma sta per fare un effetto bonzo, questa è benzina, adesso abbiamo un accendino e vediamo Andrea Flambè, eccoci qua. Come è stata la session? Bene, bene, un po' mosciarelle, ma ciao, ti favorizzo, troppa grazia. Troppa grazia, domani pare che ci sia di meglio, bene, allora ci rivedremo domattina, tutti quanti, saluto a Jacques Cabrè. Ciao!